Gentili colleghi, oggi vi presentiamo un caso di un feto plurimalformato. La prima cosa a cui pensiamo è che ci sia una rottura dell'amnios, che abbia potuto determinare tutta questa serie di malformazioni. In realtà questo non c'è, perché il celoma è integro, come si può osservare da queste immagini. Andiamo ad analizzare la testa fetale. Questo è un feto a 12 settimane e 6 giorni. E vediamo che la testa c'è un monoventricolo, quindi da sospetta oloprosencefalia. Vedete appunto in queste immagini il monoventricolo. Qui si vede il celoma integro, quindi escludiamo una rottura dell'amnios. Vediamo qui sempre la testa, che appunto presenta questa idrocefalia monoventricolare. Vediamo tutto questo grande ventricolo che occupa la testa. E quindi appunto questa prima malformazione che presenta il feto è l'idrocefalia. Andiamo a visualizzare invece a livello della faccia. Vediamo che un'orbita appare regolare, sia di dimensioni che di formazione, però l'altra invece appare piccola. E vediamo che, calcoliamo il diametro bisorbitario, e vediamo che con la sonda transvaginale, andando a guardare all'interno delle orbite, notiamo che da una parte vediamo la lente, il cristallino, mentre dall'altra il cristallino non è presente. Quindi si tratta di un'orbita regolare, mentre l'altra piccola e disabitata. Quindi abbiamo una prima malformazione a carico della faccia del feto, quindi della conformazione proprio del volto. Vediamo appunto in queste immagini questo. Vediamo il massiccio facciale che appare deformato. C'è una plasia del mascellare, quindi non si osserva una regolare rima buccale e un regolare mento, quindi si potrebbe trattare di agnatia o tocefalia. Questa configura l'assenza della mandibola. È una patologia molto rara ed è caratterizzata appunto dall'assenza della mandibola associata a malformazioni cerebrali che qui appunto ci sono, legate proprio a un difetto embrionario. Vediamo qui appunto immagini dell'autocefalia, dell'agnatia. Questa è un'immagine tratta dal libro di diagnosi prenatale delle osteopatologie fetali del dottore Di Meglio. e vediamo appunto che in questa immagine si apprezza proprio appunto questa autocefalia e questa spesso è legata a mutazioni genetiche, in particolare appunto si è associata a mutazioni di due geni presenti sul cromosoma 14 e sul cromosoma 1. In questa slide vengono illustrate tutte le possibili anomalie di sviluppo della mandibola e tra queste la micrognazia, cioè la mandibola epoplasica, è l'unica che è possibile riconoscere alla diagnosi prenatale, le altre sono pressoché diagnosticabili, e anche la micrognazia ha un basso tasso di riconoscimento ecografico. Qui invece vediamo, abbiamo poi un difetto a carico del torace, dove si osserva l'ectopia cordis. Vediamo infatti quindi che c'è un difetto della linea mediana che coinvolge il pericardio diaframmatico e la parte inferiore dello sterno che comporta la fuoriuscita appunto del cuore all'esterno, quindi questa ectopia cordis. E abbiamo anche un difetto della parete addominale, quindi con un deficit a livello addominale, quindi un onfalocele. Vediamo appunto che l'onfalocele è molto ampio, si osserva all'interno il fegato ectopico rivestito da peritoneo. Quindi l'onfalocele e l'ectopia cordis sono caratteristici della pentalogea di Cantrell, questa rara sindrome caratterizzata da ectopia cordis e onfalocele, che sono i due segni principe, ma possono essere presenti anche altri difetti appunto degli associati e anche cardiopatie congenite, che a quest'epoca è difficile studiare perché siamo appunto nel primo trimestre. Quindi forte l'associazione di questo caso con la pentalogea di Cantrell, è comunque un quadro, un quadro clinico incompatibile con la vita extrauterina. è necessario consigliare alla paziente uno studio genetico del cariotipo fetale per valutare la presenza di eventuali anomalie cromosomiche associate, come per esempio la trisomia 13 o altre, e consigliare nel caso in cui la paziente opti per l'interluzione volontaria di gravidanza, uno studio fotografico del prodotto abortivo e un prelievo di cute per lo studio genetico. Queste sono immagini postnatali di un caso analogo. Il feto è affetto in questo caso da pentalogea di Cantrell. Vediamo infatti l'ectopia cordis e l'onfalocele, che come abbiamo già detto sono segni principe caratteristici di questa rara sindrome. Vi ringraziamo per l'attenzione.